E' ormai evidente che esista a Modica e frazioni un grave e serio problema di microcriminalità. Ormai tutti i sabato sera è diventato un appuntamento fisso la rissa nel centro storico. Quello che prima era occasionale sta diventando abitudine. Alle risse notturne si aggiungono i sempre più numerosi furti in appartamenti ed esercizi commerciali, sia a Modica ma anche a Frigintini, dove il problema a criminalità inizia a preoccupare e spaventare i residenti. Gli ultimi colpi messi a segno hanno visto protagonisti una panetteria e una macelleria di Frigintini, dove i ladri si sono introdotti nottetempo proprio a ridosso della strada più trafficata. Un problema a microcriminalità a Modica c'è e diventa sempre più prepotente.